Il kit del canta, la rubrica che non piace, ha i poteri forti! Dopo la sosta della scorsa settimana causa influenza, ritorniamo con il kit del canta per la ventesima giornata. Vi ricordo, rubrica in collaborazione con fantacalcio.it, dunque troverete il rill in collaborazione su Instagram, troverete l'articolo completo su fantacalcio.it e poi mi troverete in live venerdì attorno alle ore 16.30 su Fantacalcio TV sul canale Viola durante line-up date. E ragazzi, insomma, iniziamo subito allora con Genoa-Torino. Il Genoa è una delle 11 squadre affrontate dal Torino più di 100 volte in Serie A ed è la squadra contro cui è la più alta percentuale di vittorie tra queste, 41 vittorie in 101 incontri. Negli ultimi 11 incroci in Serie A tra le due squadre, infatti, ben 8 vittorie Torino, due paregge e una sola vittoria Genoa, l'1-0 del marzo 2022 con gol decisivo di Manolo Portanova. E se consideriamo le ultime 5 partite giocate al Ferraris, a parte quella vittoria Genoa, troviamo ben 4 vittorie Torino, l'ultima per 1-2 nel maggio del 2018. Mentre per trovare una vittoria più vecchia dobbiamo tornare, pensate, al 13 settembre del 1981, 0-1 per il Torino con gol decisivo di Paolo Pulici. Da lì in poi sono passati ben 37 anni prima che il Torino riuscisse a espugnare di nuovo Marassi rosso-blu in Serie A. Ex della partita Tony Sanabria che ha giocato contro la sua ex squadra soltanto 59 minuti. Beh, pensate, in questi 59 minuti un gol e un assist per lui. Bilancio negativo invece per Malinoski contro il Torino. Quella Granata infatti è l'unica squadra in Italia affrontata più di due volte contro la quale non ha mai portato neanche un bonus. 0 gol e 0 assist per lui in 8 precedenti. Arbitra il match giù a Di Sassari. Con giù in campo il Genoa vince sempre in Serie B, 2-2 e perde sempre in Serie A, 3-3. E anche il Torino non è felicissimo con giù in campo. 4 partite, 3 sconfitte. Fanta calcisticamente parlando, quindi partita che sembra andare per statistica dalla parte del Torino e non essendo una sfida da gol, attenzione quindi agli attaccanti del Genoa e un eventuale clean sheet per Savic. Napoli-Salernitana, solo tre vittorie in 29 precedenti tra A, B e Coppa Italia per la Salernitana. Tra l'altro nessuna di queste è venuta in trasferta. Infatti il Napoli è la squadra più affrontata nella storia dalla Salernitana contro chi non è mai riuscita a vincere fuori dalle mura amiche. Nelle ultime sette sfide tra le due squadre, le sei vittorie Napoli e un solo pareggio. L'1-1 dello scorso aprile. Firmato Oliveira e D.A. a causa di cui il Napoli non riuscì a festeggiare lo scudetto in casa. La Salernitana è una delle sole tre squadre attualmente in Serie A contro cui Juan Jesus ha segnato un gol. Gol del vantaggio in Napoli-Salernitana 4-1 del gennaio 2022. E l'unica espulsione della carriera per Jack Raspadori è venuta invece proprio contro la Salernitana. Doppia munizione in Salernitana-Sassuolo 2-2 del marzo 2022. Il Napoli invece è la squadra più affrontata in carriera da Antonio Candreva, però per lui contro i partenopei soltanto due gol e un assist a referto in 30 partite. Arbitra il match Marinelli di Tivoli. Niente di interessante da segnalare nei precedenti con le due squadre campane. E fantacalisticamente parlando, nonostante le difficoltà del Napoli attuali, quella partenopea è uno scoglio ostico per la Salernitana, che forse sente troppo l'aria di derby. Verona-Empoli bilancia abbastanza in parità tra le due squadre. Su 28 incontri, 8 vittorie Verona, 8 Parigi e 10 vittorie Empoli. E per trovare l'ultima vittoria dell'Empoli a Verona in Serie A però dobbiamo tornare al dicembre 2015. Verona-Empoli 0-1 con rete decisiva di Andrea Costa su punizione. E quello era l'Empoli di Maccarone, Pucciarelli, Zelischi, Paredes, Saponara. E pensare che Andrea Costa batteva le punizioni è veramente fantabrividi. Saponara che tra l'altro è l'ex della partita. Due gol in quattro partite per Federico Bonazzoli contro l'Empoli. Su anche il gol con cui il Verona ha espugnato il Castellani nel match d'andata. L'Empoli è la squadra più affrontata in carriera da Milan-Giuric, nonché quella dopo il Cittadella alla quale ha segnato più gol. Quattro in quattordici partite. Arbitra il match Doveri di Roma. Dieci sconfitte in 19 incontri per il Verona con lui in campo. Tra l'altro una sola vittoria nelle ultime 7. Mentre va molto meglio all'Empoli, ma molto. Non solo 7 vittorie in 14 partite con l'arbitro romano in campo, dunque il 50%. Ma l'Empoli viene da 3 vittorie di file in Serie A, tra cui un Empoli-Napoli 2-1. E l'Empoli è la terza squadra ad aver avuto più rigori a favore con Doveri in campo. Ben 6 dietro solo a Milan e Atalanta. Ed è la squadra col miglior saldo rigori a favore contro. Più 5. Fatta calcisticamente parlando, quindi attenzione ad una sfida che diamo troppo per scontato che penda verso il Verona, che potrebbe però risentire anche delle numerose voci di mercato dei suoi giocatori e statisticamente ci può stare un rigore per l'Empoli. Dunque attenzione a Ciccio Caputo. Monza-Inter sfida assolutamente in parità per quanto riguarda la Serie A. In tre precedenti infatti una vittoria per parte e un pareggio. E l'unico Monza-Inter giocato allo You Power Stadium è finito 2-2. E curiosamente era sempre gennaio, con gol di Darmianne e Lautaro per l'Inter, Ciurria e autogol di Dunfris per il Monza. Tantissimi gli ex della sfida per quanto riguarda il Monza, da D'Ambrosio a Gagliardini, passando per Di Gregorio che non ci sarà, Valentin Carboni, Caldirola. E Caldirola ha proprio nell'Inter una delle quattro squadre attualmente in Serie A alle quali ha realizzato un gol. Le altre sono Frosinone, Roma e Verona. Arbitra il match Rapuano di Rimini, quest'anno molto fiscale. 9 partite, 4 espulsioni e 3 rigori. Un solo precedente con l'Inter e non proprio favorevole. Inter-Empoli 0-1 dello scorso gennaio. Sì, sì, quella partita, quella del famoso gol di Valdanzi. Fanta calcisticamente parlando, sfida insidiosa per l'Inter, sia dal punto di vista arbitrale, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista degli ex. Dunque non infarcite la squadra dei Nerazzurri, ma diversificate. Lazio-Lecce. Il Lecce ha solito fare scherzetti alla Lazio. Pensate che nelle ultime quattro sfide tra le due squadre ci sono state tre vittorie Lecce e un pareggio. E il Lecce nelle ultime nove sfide, per ben otto volte, ha segnato due o più gol alla Lazio. Quindi attenzione a questa sfida. L'ha detto anche Sarri ieri sera. Comunque sia, prendendo in considerazione soltanto le partite all'Olimpico, 22 partite, 13 vittorie Lazio, otto pareggie e soltanto una vittoria Lecce. L'1 a 2 del gennaio 2011, corretti di Mauri per la Lazio, otto gol di Muslera e Grossmuller per il Lecce. Il Lecce è l'unica squadra affrontata più di tre volte in Italia da Luis Alberto, contro cui non è riuscito a segnare neanche un gol. Quattro partite contro i Salentini e tre assist, soltanto a referto. E neanche Zaccagni e Felipe Anderson hanno mai realizzato un gol contro il Lecce. Va meglio dal punto di vista realizzativo per Ciro Immobile. Sei partite contro il Lecce, cinque gol per lui. Però attenzione che una sola vittoria in sei tentativi contro i Giallorossi. Dall'altra parte invece doppietta per Remy Uden contro la Lazio nell'ultima partita. In Italia è la sua vittima preferita. Due partite, due gol. Arbita il match Maria Sole Ferrieri Caputi. È la prima partita contro la Lazio, mentre ha già arbitrato il Lecce in Fiorentina-Lecce, 2 a 2 dello scorso agosto, dove ha concesso il rigore un po' dubbio alla Fiorentina, poi tolto dal VAR. Fantacalcisticamente parlando, attenzione a questa sfida che sembra scontata, ma anche secondo Sarri sfida che storicamente nasconde un sacco di insidie. Sicuri del clean sheet per Provedel? Cagliari-Bologna, bilancio quasi in perfetta parità tra le due squadre. Su 75 incontri in tutte le competizioni, 25 vittorie Cagliari, 24 pareggi e 26 vittorie Bologna. Tenendo conto della sola Serie A il bilancio si appiattisce ulteriormente con 21 vittorie Cagliari, 22 pareggi e 22 vittorie Bologna in 65 incontri. Sfida però molto casalinga che tenendo conto di quanto detto anche nel video dei cantaconsigli può far pendere la sfida dalla parte sarda. Infatti guardando soltanto le partite giocate a Cagliari, 31, troviamo 15 vittorie Cagliari, 13 pareggi e soltanto 3 vittorie Bologna in Serie A. L'ultima datata ottobre 2013, 0-3 corretti di Garix, con E e pazienza. Da allora 2 pareggi e 4 vittorie Cagliari, tra l'altro 4 vittorie nelle ultime 4. Curiosità su Riccardo Orsolini, il Cagliari è la squadra affrontata più di 10 volte in carriera contro cui ha portato un meno bonus, ebbene sì, solo un gol e un assist per lui in 12 precedenti. Arbitro del match Manganiello di Pinerolo, il Cagliari è la squadra dopo la Lazio, alla quale ha concesso più rigori a favore, 4 in 19 partite. Fanta calcisticamente parlando, tenendo conto solo della statistica, si parlerebbe di una sicura vittoria Cagliari. Dunque attenzione, Fiorentina Udinese, curioso come nelle ultime 10 sfide tra le due squadre soltanto una volta la partita sia finita con segno gol. Ottobre 2020, Fiorentina Udinese 3-2 con doppietta di Castrovilli e gol di Milenkovic. Doppietta di Stefano Nocaca per l'Udinese. Tenendo conto solo delle sfide giocate al Franchi, invece nelle ultime 16 sfide giocate abbiamo ben 15 vittorie Fiorentina e una vittoria Udinese. Lo 0-4 dell'aprile 2022 con gol di Mari, De Lopeu, Wallace e Udoghi. Mentre per trovare un pareggio dobbiamo tornare addirittura al febbraio 2005. 2-2 corretti di, qua fantabrividi veramente, Boginov e Ariatti per la viola, Montari e Di Natale per l'Udinese. Due gol contro l'Udinese per Nicola Milenkovic, l'abbiamo già nominato insieme alla Roma la sua vittima preferita in Serie A. Jack Monaventura invece, 4 gol e 4 assist per lui in 19 presenze contro i Friulani, ha ricevuto proprio contro l'Udinese una delle due sole espulsioni dirette della carriera. Arbitra il match Pairetto di Nichelino, anche lui quest'anno molto fiscale. 11 partite dirette, 5 rigori e 3 espulsioni. L'Udinese con lui in campo non vince dal marzo 2019, Udinese-Genua 2-0. Da allora 3 sconfitte e 2 pareggi con l'arbitro torinese in campo. Fantacalcisticamente parlando, partita che pende, secondo la statistica, in maniera incredibile verso la Fiorentina. Potete schierare più giocatori viola. Attenzione soprattutto ai rigoristi. E passiamo al big match Milan-Roma. Nelle ultime 12 sfide tra le due squadre una sola vittoria a Roma. Il 2-1 dell'ottobre 2019 con reti di Dzeko, pareggio di Teo Hernandez e gol vittoria di Zaniolo. Mentre per trovare l'ultima vittoria a San Siro della Roma dobbiamo tornare addirittura all'ottobre 2017. 0-2 con reti di Dzeko e dell'ex della partita, Florenzi. Da allora 12 sfide tra le due squadre, 7 vittorie Milan, 4 pareggi e appunto una sola vittoria a Roma. Sfida che in 10 delle ultime 11 partite ha visto realizzare il segno gol. Quindi attenzione al clean sheet dei portieri. Molto difficile. Curiosità? Nelle ultime 8 sfide tra le due squadre, 7 rigori a favore del Milan, un solo rigore a favore della Roma. 2 gol e 4 assist per Leao in 9 partite contro la Roma. Dopo il Torino, la squadra contro cui ha fornito più passaggi vincenti ai compagni in carriera. Il stesso discorso per Lorenzo Pellegrini, 5 assist per lui in 13 partite contro il Milan. Anche qui suo record in carriera al pari del Sassuolo. Probabilmente non ci sarà, ma il Milan è la squadra più affrontata in carriera da Paolo Di Bala. 23 incontri col diavolo per la cocia e bilancio super positivo, 13 vittorie, 8 gol e 5 assist. Buono anche lo score del suo compagno di reparto, Lukaku. 9 partite contro il Milan, 5 gol e 2 assist per lui. Una delle sue vittime preferite in Italia per quanto riguarda le partecipazioni al gol. Arbitre del match guida di Torra annunziata. Quello che non vide è la cintura di Teo Hernandez a Mkhitaryan. Il Roma-Milan 1-2 del febbraio 2021. Milan e Roma sono le due squadre alle quali ha concesso più rigori a favore in carriera. 8 al Milan in 35 partite, 7 alla Roma in 28 partite. Milan che con guida in campo ha perso una sola volta nelle ultime 9 partite, Fiorentina-Milan 4-3 del novembre 2021, mentre la Roma ne ha vinta solo una nelle ultime 10. Roma-Bologna 1-0 dell'aprile 2021. Addirittura ne ha vinte solo due nelle ultime 15. Fanta calcisticamente parlando, sfida da over 2,5. Sfida da Rigori, quindi dentro sicuramente Giroud, dentro sicuramente Lukaku, sfida da appannaggio del Milan sia dal punto di vista storico che arbitrale. Atalanta-Frosinone, una sola vittoria del Frosinone contro l'Atalanta nella storia su 7 incroci, tra l'altro avvenuta nella partita d'andata. 2-1 allo Stirpe, Correti, Diarrowi e Monterisi per il Frosinone, Duvanzapata per l'Atalanta. Nelle 6 sfide precedenti 4 vittorie Atalanta e 2 pareggi e il Frosinone non aveva segnato mai neanche un gol. Arbitra il match, Prontera da Bologna. Due vittorie su 2 con lui in campo per il Frosinone tra A e B. Mentre due vittorie e una sconfitta per l'Atalanta in 3 precedenti. Fanta calcisticamente parlando, niente da segnalare. Sfida con poco storico, sia arbitrale che calcistico. E chiudiamo con Juventus-Sassuolo. Solo 4 vittorie per il Sassuolo su 22 precedenti. E solo una di queste è avvenuta alla Juventus Stadium l'1-2 dell'ottobre 2021, Correti, di Frattesi e Maxime Lopez per i Neroverdi, McKennie per la Juventus. E attenzione, solo 2 gol in 14 partite per Berardi contro la Juventus. Tra le squadre affrontate più di 10 volte in carriera è quella contro cui ha realizzato meno gol. Arbitra il match, Marco Piccinini di Forlì. Quest'anno 12 partite arbitrate e 8 rigori dati. Vorrà battere qualche record, non si sa. Arbitrato 5 volte la Juventus, esclusivamente allo Juventus Stadium. E lo scorrecita 5 partite, 5 vittorie bianconere, un solo gol subito. Quello di Dossena e Juventus-Cagliari 2-1 di questa stagione. Fanta calcisticamente parlando, sfida che pende molto verso i bianconeri, considerando storico arbitro e soprattutto l'allergia di Berardi contro i bianconeri. Berardi che ovviamente si schiera sempre e comunque, ma non rimaneteci male in caso in questa giornata non portasse nessun bonus. Si conclude qui il kit del canto per la ventesima giornata. Vi ricordo in collaborazione su Instagram l'articolo completo su fantacalcio.it e la mia live insieme agli amici di fantacalcio.it dove ovviamente sul canale Viola su Fantacalcio TV durante il line-up day di venerdì attorno alle 16.30. Nel frattempo un saluto dal secondo divano più famoso del web. Si è capito la battuta? 6-1 Zazzoni.